Musica Martedì 5 gennaio, buongiorno a tutti ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV Siete con occhio ai giornali, il programma che apre tutte le mattine alle 7 e mezzo L'informazione su Fano TV, canale 17, tra poco vedremo i giornali Prima il santo del giorno con le previsioni del tempo Allora è un po' difficile questo, mi devo concentrare Allora oggi è il San Giovanni Nepomoceno Newman E' nato nel 1811 in Bohemia, è morto a soli 49 anni di infarto Consumato dal suo amore per Dio e per i fratelli Il sole è sorto alle 7 e 41 e tramonterà alle 16 e 45 Andiamo adesso a vedere invece il tempo Il tempo che farà nella giornata di domani Lo vediamo subito con la grafica animata Realizzata dalla Protezione Civile delle Marche Allora per oggi avremo un cielo, come vedete, molto nuvoloso Coperto con precipitazioni Fatto salvo nella provincia di Peso Urbino Soprattutto sulla costa Da noi non dovrebbe esserci granché Il limite delle nevicate è oltre 2000 metri al mattino In graduale calo nel pomeriggio fino a 1400 metri Per domani, mercoledì, giornata di festa Giornata dove la Befana, come vedremo tra poco Consegnerà ai bambini tante calze con dentro cioccolatini oppure carbone A seconda di se uno è stato bravo oppure no Allora, lungo la costa avremo cielo nuvoloso Molto nuvoloso, ma senza precipitazioni Soprattutto in provincia di Ancona e in quella di Pesaro Diverso è il discorso per l'entroterra Dove non sono escluse anche le nevicate Come vedete, intorno ai 1000 metri sui Sibillini Andiamo per vedere la giornata di giovedì 7 di gennaio Anche qui le condizioni del tempo migliorano Con schiarite, però avremo probabili nebbie Al mattino che poi si andranno a dissolvere con l'aumento delle temperature Le temperature infatti saranno in lieve aumento nei valori massimi La giornata di venerdì sarà caratterizzata da deboli precipitazioni Che potrebbero intensificarsi nel corso del fine settimana Allora, nelle Marche ci sono due problemi in particolare Due situazioni molto calde La prima ormai è nota, quella dei conti correnti Degli azionisti, dei soldi persi Da parte di coloro che avevano messo i risparmi su banca Marche E poi invece l'altro è la questione della sanità Quindi soldi e sanità, sono questi due temi In particolare la sanità che sta esplodendo in questi ultimi giorni Cominciamo allora da qui, dal Corriere Adriatico Parla Ceriscioli, o meglio Spiega Ceriscioli quali sono le priorità Le sue priorità, visto che mancano pochi mesi allo scadere dei 300 giorni È un termine ultimo che scadrà a fine aprile E per allora il governatore, come promesso in campagna elettorale Si è fissato alcuni importanti obiettivi da raggiungere Tra cui vedete in questo schema pubblicato sulla pagina delle Marche del Corriere Abbattimento delle liste d'attesa Poi l'altro punto è il consolidamento degli investimenti ospedalieri La riorganizzazione dei punti nascita L'aggancio ai bandi europei Attrazione delle imprese verso le aree di crisi E il rilancio delle infrastrutture Tutto spiegato per filo e per segno Nel dettaglio in questo articolo di Federica Buroni Che potrete trovare e leggere sul giornale di questa mattina Io mi limito soltanto a dire che Ceriscioli andrà avanti E non farà un millimetro Non arretrerà di un millimetro Sulla questione dei punti nascita Il requisito dei mille nati Consente maggiore sicurezza e qualità Motivo per cui con ogni probabilità nelle Marche Saranno destinati alla chiusura altri punti nascita Al nord della regione Per esempio Trafano e Pesaro Mentre al sud tra San Benedetto e Ascoli Ma non sono all'ordine del giorno Su questo argomento intervenuto ieri anche il sindaco di fama Massimo Seri Sulle pagine del Carlino L'ospedale non funziona più Lo so per esperienza L'ira del sindaco Seri Le scelte politiche regionali hanno umiliato il Santa Croce I nodi, doppi primari, trasferimento di chirurgia e ortopedia E ora il punto nascita unico Mentre c'è l'affondo anche di colui che per tanti anni Per 15 anni ha denunciato quello E' anche previsto forse Non lo sappiamo ancora Però denunciato la situazione che sarebbe potuta accadere Ed eccola qua Ipocriti, era già tutto scritto Dice Giancarlo Danna L'affondo del consigliere Quando è nata l'azienda unica Marche Nord Nessuno si è mosso per chiedere garanzie per la sanità dell'entroterra E per il Santa Croce di Fano E su questo argomento naturalmente anche le altre pagine dei quotidiani Non solo il resto del Carlino Per esempio questo è il Corriere Adriatico Si cambia via da Marche Nord Seri pronto a guidare la protesta contro la regione Santa Croce non è più un ospedale Fano rivendica i servizi dell'area materno-infantile Il sindaco ai pentastellati Cioè il Movimento 5 Stelle Dice non sono una banderuola Mentre l'onorevole Lara Ricciatti Ceriscioli dice favorisce così i privati Sull'ospedale Seri alza la voce Siamo sulla pagina di Fano del messaggero Per salvare il punto nascite L'ipotesi di mantenerlo solo a Pesaro Fa temere il peggio per il Santa Croce Che cosa resterebbe dopo a Fano? Saremmo pronti per la chiusura? Il sindaco dice ancora Serve un recupero di dignità Così il San Salvatore Sta diventando di fatto Il nosocomio unico della provincia Il primo cittadino replica anche All'accuse dei grillini Spargono solo infamie e bassezze Poi sulla questione invece di Banca Marche Torniamo sul resto del carino Il balletto dei posti letto tagliati Perché non c'è soltanto il problema Dei punti nascita Tra Pesaro e Fano E decidere chi verrà tagliato Chi verrà chiuso Chi verrà risparmiato Qui c'è anche il problema Che è in corso ormai da qualche giorno Da quando siamo passati all'anno nuovo Il problema degli ospedali dell'entroterra Abbiamo già detto cagli eccetera eccetera Il balletto dei posti letto tagliati Sono finiti alle cliniche private Questo è il titolo e la domanda Che si pone il resto del carino questa mattina Delibere di fine anno L'unica cosa certa è la nostra penalizzazione Trasformazione improvvisa Lungodegenza trasformata in posti letto Per cura intermedia Dove il medico sarebbe quello di famiglia Pesaro e Urbino Era già al 2,7 per mille per posti letto E scende ancora E questo è incredibile Scrive il giornale La determina Asur 914 Che recepisce la trasformazione Le case della salute in ospedali di comunità Facendo sparire i reparti di medicina A Fossombrone, a Caglis, a Socorvaro Tanto per fare spazio ai cronicari Gestiti da infermieri professionali Insomma la situazione è questa E non piace, preoccupa, spaventa Anche in certi casi Quando si parla di salute E guardate per esempio che cosa è successo A Pergola Lo denuncia il sindaco Baldelli È successo che il 10 dicembre scorso Un 39enne è finito fuoristrada Era stato incastrato Restò incastrato nell'auto È arrivata Icaro Che è l'ambulanza L'eliambulanza Che vedete in questa foto È atterrata a quasi un chilometro di distanza Dall'incidente 800 metri dall'incidente Però Ovviamente i sanitari A bordo dell'elicottero Si aspettavano L'arrivo dell'ambulanza Anche perché Insomma non è proprio 800 metri Non sono pochi E comunque c'è sempre l'ambulanza Purtroppo Purtroppo In questo caso non c'era Perché? Perché era già impegnata L'unica che è disponibile a Pergola Era già impegnata In un'altra emergenza E così i sanitari Appiedati Sono andati a prendere Il ferito Con le proprie gambe Quindi senza ambulanza Un grave episodio Denunciato come dicevo Dal sindaco di Pergola Diciamo dai risparmiatori Degli azionisti Scatenati ieri a Iesi In una manifestazione di protesta Noi derubati Ridatici risparmi Un centinaio di manifestanti Davanti alla filiale di Banca Marche Gli sportellisti Barricati Barricati dentro Non sono voluti uscire Neanche per mangiare Poi i cartelli Le voci Insomma tutti davvero Arrabbiati per Questa situazione Che ormai si protrae Da diverse settimane Da Roma arrivano i fondi Per il teatro Arrivano i fondi Per la regione Marche Ma per Fano E per il teatro romano Sono soltanto spiccioli Il ministero stanzia 180 mila euro La soprintendenza dice Non basteranno a finire i lavori Ai 180 mila euro Conti alla mano Va sottratto il 22% dell'IVA Per cui resteranno Soltanto 140 mila euro Che suddivisi in tre anni Fanno circa 46 mila euro All'anno E quindi sono davvero Davvero pochi Però a Milano Si dice piuttosto che niente Mai piuttosto che Sembra quasi fanese Ma insomma è così La Befana Viene due volte E parliamo adesso Di argomenti un po' più leggeri Oggi Scusate domani 6 di gennaio L'Epifania La Befana Viene due volte A Fano Arriverà prima in aereo E poi andrà in piazza 20 settembre Prima si cala col paracadute Poi spunta dal palazzo Del Podestà In piazza Sempre Con tanti doni Si calcolano circa 1300 calze Ripiene Di dolci O di carbone Alle 17 Salirà sul palco Elisa del Prete Semifinalista Di ti lascio Una canzone Mentre a Fenile Sempre un quartiere Di Fano La vecchina Arriva in calesse E chiama I suoi bimbi Per nome Andiamo adesso Sul Corriere Adriatico Sul Corriere Adriatico Anche qui La Befana La Befana Trova spazio Sulla pagina 6 del Corriere Bambini 1300 calze Con i doni A Fenile Regali portati Sul calesse Prevista anche Una lotteria Di beneficenza A favore di Osie dell'accoglienza E apito Di Don Paolo Tonucci L'altra pagina Invece Di Fano Del Corriere Gli appalti Merito nostro Opere pubbliche Per 16 milioni Il capogruppo Del PD In consiglio comunale Alberto Bacchiocchi Replica Alle minoranze Adesso Andiamo sul Messaggero La pagina principale Acqua Etari Le bollette Sono da 700 euro Via la tassa Sulla prima casa Ma resta alta La spesa media Delle famiglie Per gli altri servizi Il comune di Pesaro Aumenta la mancata Entrata Di 2 milioni Legata alla fusione Con Monbaroccio Sanità Alta tensione in provincia Punto nascita Seri alza la voce Poi lo scivolone Della VL Parliamo di basket E allarme La partita Della tranquillità Si trasforma In quella Dell'allarme La VL Torna nella bagarre Per salvarsi E non retrocedere Da oggi Il via Ai saldi Si prevedono Buoni affari Prendono il via Oggi I saldi Invernali E la stima Sulle vendite Prevede Una crescita Del 3% Lo rivela L'ufficio Studi Di confcommercio Per cui Ogni famiglia Marchigiana Spenderà in media 344 euro Per l'acquisto Di capi di abbigliamento Calzature E accessori Per un valore Complessivo Di 230 milioni Di euro E poi anche qua Come vedete Sotto la testata Si parla Della Befana Da Urbagna Fino a Fano Befane pronte A spiccare Il volo Andiamo Sulle pagine interne Del messaggero Si parla di scuola 10 milioni Di ristrutturazioni Santa Marta Ok A Pesaro Il presidente Della provincia Taglionini Soddisfatto E' la miglior risposta Politica Alle recenti Polemiche Ancora Sgarbi Sgarbi E' ancora assessore Alla rivoluzione Del comune di Urbino Si Lo è ancora Formalmente Almeno Il critico E' ancora assessore Alla rivoluzione Ma in pratica I suoi rapporti In giunta Appaiono Irrisolti La mia situazione Dice Il critico d'arte E' in stallo E dipende Da un aspetto legale Relativo all'albero Un politico Legato ai Verdi E' uno E' uno Personale Poi Anche qui Tante notizie Che arrivano dai comuni Dell'entroterra Sulla sanità Sull'ex ospedale Bartolini Ristrutturazione conclusa Anche se questa è un'altra cosa Punti di soccorso Tagliati Gambini Sindaco di Urbino Dice Sindaci Uscite Dalle logiche Di partito Convocata per sabato Un'altra conferenza Dei primi cittadini Invitando anche Ceriscioli L'ultima pagina E' quella di Fano Corridoni L'ex giardino Un tesoro Dimenticato La scomparsa Di Raffaele Panella Riapre il dibattito Sull'ex giardino Della scuola Elementare Corridoni A Fano In Viale Gramsci Sarebbe Un nuovo errore Riempire Quello spazio Che fino a poco tempo fa E' stato occupato Da un distributore Di benzina Con qualche area Di sosta In più Per le macchine Commenta Paolo Venturelli Esperto D'arte Dunque Si fa Aumentano le voci Di coloro Che vorrebbero Ripristinare Il vecchio giardino Quello che un tempo Appunto C'era Al posto Del distributore Vedremo Il dibattito Sta iniziando Vedremo come Evolverà Intanto ci sono Tanti altri problemi Da risolvere Anche se E' una Buona notizia E questa Ve l'abbiamo Già data Anche ieri Nel nostro Telegiornale E' una buona notizia Che Eccola qua Vedete Andiamola a vedere Sul giornale E' finita La grande crisi Torneremo A correre Chiudiamo con questa notizia Che ci ridà un po' di Speranza Lo dice la CNA Il presidente Barilari E' anche convinto Che sulle azioni Non si riavranno indietro I soldi di Banca Marche Ok D'accordo Però E questo Chiaramente Dispiace Quando si perdono i soldi Però E' importante Questa notizia E' importante Questo titolo Che ci ridà Speranza All'inizio di questo Nuovo anno Noi ci rivediamo Questa sera Alle 20 e 30 Con occhio alla notizia Vi auguro di trascorrere Una piacevole giornata Arrivederci